Durante i controlli a Venaria i militari dell'arma hanno arrestato un pusher italiano di 32 anni che spacciava droga all'interno del suo appartamento. Il continuo passaggio di persone dalla casa del giovane a tutte le ore del giorno e della notte non è passato inosservato i carabinieri che hanno effettuato il controllo e nel corso di una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto e sequestrato 100 grammi di droga tra cocaina e marijuana, 120 capsule di medicinale tipo Actifid, usato dai giovani nello stesso modo della cocaina, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento dello stupfacente. Amati invece i militari dell'arma sono prontamente intervenuti per sua abitazione dove erano stati segnalati due ragazzi che dal balcone di casa sparavano i passanti con un fucile. Raggiunta la casa delle pattuglie dell'arma sono stati individuati e identificati due minorenni di 16-17 anni del luogo che sono stati denunciati. La perquisizione è infatti permesso di sequestrare un fucile d'assalto semiautomatico per software e di libera vendita. La gittata dell'arma può raggiungere oltre 50 metri e rende lo strumento potenzialmente pericoloso. Tutto il materiale è stato sequestrato.